Buonasera, buonasera, chiedo scusa per il disturbo, mi chiamo Gianfilippo Neri, chiamo da Napoli, Portici, Piazza San Ciro, una traversa, sono un ragazzo di 27 anni, con le punte un po' azzeccate, volevo sapere se era possibile venire a fare un massaggio da voi? Sì Che tipo di massaggio e quanto è il costo? Massaggio rilassante 1 ora 30 euro, giapponese, telantese, romantico 1 ora 50 euro, mezz'ora 30 euro Mezz'ora 30 euro? Senti, Emoli, scusami se ti faccio qualche domanda, ma è giusto per non venire fino alla fine del massaggio quello lì romantico volevo fare E poi me lo fai uno strongone? Tutto corpo? Anche dietro? Io preferirei davanti, è possibile, dietro mi fa un po' impressione Come vuoi tu? Come vuoi tu? No perché dietro una volta sono andato dentro a un fatto, me la volevano fare dietro improvvisamente Lo so, come vuoi tu? Mi sono trovata uno addosso, senti ma è un massaggio grande o piccolo? Glande, vedi? Senti ma lo fate anche il massaggio al glande? Più calante, piccolo, tutto c'è? No, piccolo viene Peppe a casa, senti ma chi mi fa il massaggio? Perché io so che le manine orientali sono piccole, ce l'hai piccole o grandi le manine? Scusa, tu mi piace il massaggio, vieni qua a parlare, io in italiano buco Hai ragione, scusami, volevo solo sapere se a fine massaggio c'è il tremone No, io non ho tanto capito Tremone sarebbe lo strungo, il subuknuz, il gioco del cocchio Scusa, scusa, io non ho capito Non capisci, hai ragione, senti vengo da vicino, l'importante è che non mi tocchi dietro Ciao, Filippo